Un gioco terminato in maniera tragica. Questa l'ipotesi al vaglio degli inquirenti circa la morte di un sedicenne. A F, queste le sue iniziali, finito travolto da un treno intercity nei pressi di San Pietro a Patierno, lungo la tratta ferroviaria a forme a Napoli. L'evento è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera. A quanto pare il giovane, insieme a un suo amico, stava giocando a scansare i convogli in arrivo sui binari. Dopo aver scavalcato la recinzione, i due adolescenti si sarebbero sfidati a rimanere in equilibrio sulla parte metallica dei binari. Dietro il gioco, che parrebbe essersi diffuso tra numerosi giovani di Napoli, la voglia di scattare un selfie, una foto, a dimostrare il gesto temerario. Il luogo dove è avvenuto l'incidente si trova nei pressi di una curva. Con la poca visibilità dovuta alla notte, era quindi molto difficile avvistare il convoglio in arrivo. A F abitava nei pressi del tratto ferroviario nel comune di Casoria, sotto shock l'amico che ha partecipato al gioco. L'incidente mortale ha provocato il blocco della linea per circa quattro ore e treni deviati su di un'altra tratta, con un ritardo di circa 160 minuti.